ok siamo tornati vediamo un po' quanto se cresciamo cose varie voglio fare cose leggere per riprendere la mano su questo gioco che è mesi che non ci gioco prendiamo un po' i gioielli possono essere inseriti solo all'interno dello slot di livello o pari o superiore grazie a tutti quindi vediamo un po' di farlo in compagnia vediamo un po' se c'è qualcosa non potrò mai farlo infatti ma di alto grado questo speciale cosa abbiamo un cazzo babbo ne è verificato un errore ma che cazzo non posso entrare la ok non lo dimenticavo che faceva ste cose in gioco a volte c'è questo oppure la giana questo lo posso fare le giana la giana vabbè ma un po' da vai nel impatto sarebbe questa proviamola non ho sbloccato tutte cose se è questo che state vedendo potete ben capire vabbè vabbè andiamo dai vediamo di fare una una partita una bella caccia combo con reazione alla guardia quando non ho mai usato non ho usato io ero sempre con l'arco con che cos'era lascia bipen lascia quella la non mi ricordo anche più come si chiamano le armi sfruttare l'ambiente non for ospi tipo si è bloccato tutto no ok ah ok quella spadona la e come funzionava non ho preso tutto l'oro mi dovevo mangiare però giustamente la selezione dello chef ok ciao mi chi ha già finito allora vediamo un po' i nostri compari si trovano qui ma non dobbiamo cacciare la ciana noi perchè stanno qui vabbè qui invece stanno qui si dobbiamo essere vicini in teoria merda ma un radion è in coso ma bello sono lì alla gianna no quindi non fate quello devo ricordarmi di questa cosa qua mi è rato lo strozo maledetto ok no 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 non sta andando quello Reinhard Elzabeth i miei compagni ops non mi piace mi ci dovevi abituare devo riprendere la mano col gioco è andato a dormire immagino non no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, fatto. E' una caccia, va bene, sempre bene. E' finita. Nice, è andata bene. Buono dai. Vabbè, riprendo tutto, nel senso mio. Allora, arrivare a un punto in cui venderò le cose. Ah, quindi siamo in grado match ad ore 48. Dovrei arrivare al grado 100. Un giorno. Un giorno ci arriverò. Tanto penso di arrivare al grado 50. Piano piano. Io ho giocato solo per 100 ore questo gioco. Lo dico così. Ho comprato la campagna e poi un pochettino più avanti. Spada lunga. Spada lunga consente di eseguire combo in movimenti rapidi e fluidi, ma non permette di imparare. Non mi piace unirmi le missioni per il momento. Vediamo un po'. Vediamo cosa abbiamo. Abbiamo ancora questo. Un teosta. Un teosta. Un teosta. Un teosta. Un teosta. Dai che non ho proprio idea Adesso non lo possiamo fare Il grado non è abbastanza alto Il kill però Vabbè Stiamo entrando in tanti a quanto vedo Ma non sono io che sono l'ultimo Ma era solo uno prima Tutti contro il bastardo Però non mi piace questa arma ragazzi Organizzare oggetti E l'imbaggiamento Io sono più per Questa Che bella Per il momento però Ho dovuto troppare più oggetti E fare altre armi più potenti Con calma poi mi metto Single player Cioè le single player da solo Con calma Off screen E mi troppo gli oggetti Che mi servono per le nuove armi E via Difesa elementare E chiaramente la difesa contro gli elementi Di ricevere gli effetti dei manus E delle Devo anche prendere tutti i gadget Tutte queste cose qui Piano piano Molto piano piano Forse non è stata una grande idea Venire contro un'astra Così Ti vedo che sono molto flamboni Questi qui Aspetta un secondo C'è qualcosa che non cosa Fermi No eh Aspetta Perché c'è quella spada Mi sono perso qualcosa Scusami Ah di Dante Ho letto male Scusate Io volevo questa Eh 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 Di Dante Infatti ho detto demoniaca Ah questa è la mia bambina Ah la spada di Dante Era quella Ok Cosa ho fatto Vabbè Vabbè andrà fresca Dove devo andare Voglio rifare cazzate Ma No ok Tu non c'entri nulla E io non ti ho mai visto Finora Tu sei nuovo per me Se non sbaglio Io devo andare contro di lui Come si usava Questa arma qua Questa è la mia bambina Devo ricordarmelo Ma merda Manco il tempo Merda Ma c'era una disputa Territoriale Non ho capito Un cazzo Questa è la mia bambina Oh Oh Questa è l'verente Questa è un'verente típica Questa è lont Questa è un'verente Un pochettino me la ricordo ancora come si usa Guardate a questo che urla No, via, via, via Guardate, 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 guardate Ma puh merda, non ce l'avrei con me Ok Dove va, dove va? Un pochettino pezzi di merda Ok Ma ci sta dando una mano sto drago? Ci sta facendo del male? Ancora non l'ho capito Merda Ok Non si capisce più niente C'è un bosvello che non... Madonna, qua muoio Ma che ci sono? Ok Non so che sei un pezzo di merda e ce l'hai ancora con me Non mi fa muovere Perza per merda Ok, ho recuperato un po' di vita Non so che sei un pezzo di merda e ce l'hai ancora con me Non so che sei un pezzo di merda e ce l'hai ancora con me Non so che sei un pezzo di merda e ce l'hai ancora con me Non so che sei anche un pezzi di merda Folli Non so che sei un pezzo di merda Ancora Tutto manca quel cazzo di cosa Ma lo sta cavalcando, perfetto Bene Buongiorno è piaciuto ancora c'ho il bengala pensavo di averlo preso cioè l'ho preso però non come volevo adesso è bello che mi sposto da qua non posso fare nulla finché quello lì non si sposta la donna mia poi dico poi ok dove dove dai qui 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 Ma scende sì o no? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il cuscelo ad ora eh Ok non ho capito L'avevo visto in realtà Non mi ricordavo proprio Ok adesso siamo senza protezione Ma sto coso di merda Non si sa fermo un attimo Quanto sei odioso Mi bezzo un altro Eh non avrei dovuto piazzarlo Se ne è volato via Fa culo No eccola qua Pezzo di merda Ma c'è un vizio Allora No eccola Ma c'è un vizio L'ha ucciso No vabbè Ok Va bene Cosa cazzo ho visto No Fammi un po' di pezzi in un'altra La coda La coda L'ala La scaglia più La coda Ok Nuo livello Nuo livello Bello Bello Abbiamo anche ucciso Un lunastra Un lunastra Vediamo un po' gli oggettini Ok Carapace Carapace Sangue di draga anziano Lunastra scaglia più Carapace Alto Alto Incomio Sera Armatura Dura Sempre Sangue E poi Ristallo Vendrà Ok Va bene Uh Siamo al 49 C'è a solo livello 1 Lunastra Non c'è così Carapocco Non c'è così